benvenuta benvenuto a questa nuova puntata di sinergie naturali ci siamo lasciati prima delle festività natalizie quindi è passato un pochino di tempo ma eccoci di nuovo puntuali a riproporre altri temi speriamo di tuo interesse questa settimana parleremo di condivisione infatti il titolo è condivisione che felicità e questo è il salotto lo spazio mio e di barbara condivisione che felicità ma siamo proprio sicuri che sia sempre bello e facile condividere non è sempre così ma per fortuna abbiamo i nostri strumenti naturali in questo caso parliamo di floriterapia che ci aiutano nella direzione che vogliamo prendere oggi parliamo di un'essenza floreale australiana del bush blue bell questa bellissima campanula che in natura ha appunto un colore tra il blu e il viola ma per capire a cosa serve questo fiore cerchiamo di vedere in cosa mostriamo a volte di non saper condividere per esempio nelle cose materiali i nostri possessi personali il denaro le risorse che magari abbiamo in misura maggiore rispetto ad altri oppure cose immateriali siamo vari di sentimenti non mostriamo ciò che proviamo siamo apparentemente a volte addirittura giudicati anaffettivi perché in realtà tratteniamo ciò che abbiamo dentro non è che i sentimenti non li abbiamo è che facciamo fatica a farli uscire questo fiore australiano del bush è proprio il rimedio adatto per aprire le porte del cuore è indicato in generale per quegli individui che con difficoltà raggiungono un contatto con la sfera dei sentimenti blu bell può essere quindi consigliato a coloro che hanno bloccato le proprie emozioni la continuità poi dell'utilizzo di questo fiore aiuterà anche a rimuovere le barriere create attorno al chakra del cuore che è il chakra che quando è aperto ci porta appunto verso gli altri ad amare incondizionatamente e a condividere ciò che abbiamo questo tipo di soggetto può anche mostrare la preoccupazione al pensiero di dover manifestare il proprio essere perché magari per convinzione magari per educazione rimane in essi la convinzione latente che non sia conveniente farsi vedere per come si è c'è sempre un qualche cosa che che non va bene meglio tenere tutto dentro per esempio pensiamo a già dalla prima infanzia il rimedio blu bell può essere molto utile per i bambini che ad esempio si rifiutano di dividere i propri giocattoli con i compagni di giochi mostrando quindi già di possedere un indole un po reticente alla condivisione delle cose con gli altri e se io ti presto la mia bambola o mio trenino magari tu non me lo restituisci più magari non 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 mi torna più indietro magari io rimango senza ecco blu bell usato già in questi in questi casi fin da piccoli porta a promuovere la fiducia nell'abbondanza delle risorse della vita questa è una condizione che porta all'ottimismo è anche uno stato di allegria contagiosa perché se siamo sicuri di avere sempre comunque quello di cui abbiamo bisogno che ci piace e per forza che poi diventiamo allegri ottimisti e felici parlando più intimamente spiritualmente l'essenza blu bell promuove l'apertura del chakra del cuore e la fiducia nell'abbondanza in quei soggetti che si sono un po allontanati dall'allegria dalla condivisione quindi ricapitoliamo per chi è quest'essenza qual è la parte negativa o la parte in ombra che dobbiamo andare a illuminare questa è un'essenza consigliata per chi sfugge sopprime e nega i sentimenti sia perché di carattere chiuso e introverso sia perché ha una paura inconscia che il suo mondo affettivo vibri in una maniera che non è corrisposta o compromessa poi è per gli incapaci di condividere le loro cose spesso per paura di non averne abbastanza e ciò gli spinge ad accaparrare di tutto in previsione di una possibile carenza questa possibile carenza più delle volte è solamente nella loro testa pensiamoci pensiamo bene anche questo è proprio la percezione della carenza e poi per le persone che proprio livello economico e finanziario sono tirchie ed avare e non aiutano magari neanche le persone che hanno bisogno di loro che sono sotto la loro tutela magari i figli che hanno bisogno i parenti per esempio pensate a quando nasce una disputa in famiglia a seguito della morte di uno dei familiari quindi testamento quindi tutto quello che ne consegue si scatenano solitamente delle guerre all'ultimo sangue quando si toccano i soldi è un disastro ecco il blue bell può aiutare in questi casi perché la parte positiva che ci porta è aprire il cuore alla riconciliazione alla condivisione gioiosa all'amore incondizionato perché è slegato dal possesso sia materiale che immateriale poi è per ritrovare per trovare o ritrovare la gioia nell'esprimere i propri sentimenti più profondi quindi quello che siamo veramente e per ultimo molto importante è per capire che è giusto donare e condividere sia i propri beni materiali sia il proprio amore e i propri sentimenti perché questi non sono una risorsa limitata sappiamo bene che l'amore più si dona e più si riceve beh Barbara da quello che hai detto e per i tempi in cui viviamo di questo fiore australiano credo che ne abbiamo bisogno almeno una buona dose tutti i giorni e comunque riprendo un po' diciamo quello che tu hai già introdotto prima parlando appunto della condivisione di blue bell per fare questa considerazione la condivisione è un atto di apertura è un atto di apertura mentale emotiva e anche fisica mentale perché condividere ci permette di fare nuove scoperte e conoscenze con le quali poi noi riusciamo a migliorare noi stessi ma non solo anche il mondo che ci circonda emotiva perché ci porta a riconoscere le nostre emozioni e ad averne consapevolezza ogni volta che io sono in grado di accogliere le mie emozioni qualunque se siano senza rifiutarle a quel punto condividerle diventa un dono e fisica perché come atto tangibile della mia apertura che si trasforma in un gesto di cura in un'accoglienza piena dell'altro quindi tutto ciò premesso proprio da queste considerazioni l'olio essenziale che subito mi è venuto in mente è stato l'arancio per due motivi principali il primo riguarda la caratteristica specifica di questa essenza che è legata appunto alla sua capacità di riscaldare la nostra anima quindi di aumentare la voglia di fare è un acceleratore di energia positiva visto che abbiamo detto che la condivisione è un atto di un'apertura che stimola la gioia e la felicità eliminando le paure la tendenza a vedere tutto grigio che si traduce un po' in quello che tu raccontavi prima del trattenere dell'anche in termini di generosità no di di donare quindi aiuta a colorare la nostra giornata dal diciamo trasforma il grigio appunto in in un colore decisamente più acceso e ci aiuta anche a purificare i pensieri a portare equilibrio il secondo motivo riguarda proprio il colore il colore arancione dei frutti di quest'albero e perché non possiamo mai scollegare tutti gli aspetti che compongono una realtà quindi in questo caso l'olio essenziale la pianta da cui è tratta il colore dei suoi frutti e questo e l'arancione è un colore che è composto oltretutto dall'energia del rosso e dalla luminosità del giallo quindi è il colore del secondo chakra ed entrambi colore chakra sono la rappresentazione di tutto ciò che è importante per sviluppare l'attitudine alla condivisione prendone il massimo piacere e felicità quindi questo per quanto riguarda le caratteristiche diciamo che ci può sul piano psichico che ci può offrire che ha quest'olio essenziale ma dato che è sempre tutto collegato in un'armonia sinergica è interessante anche vedere la sua azione sul piano fisico e infatti è un antisettico quindi combatte lo sviluppo e la moltiplicazione dei microorganismi infettivi o patogeni e se pensiamo i nostri pensieri e le nostre emozioni di bassa frequenza non sono forse generati dalla paura e quindi da queste diciamo come fossero proprio dei microorganismi infettivi psichici poi cura la pelle grassa mista acneica la carnagione spenta e anche questi da un certo punto di vista riportano lo stesso concetto di eliminare il grigiore il ciò che non rende poco attraente il nostro viso per ridare vita luce e colore è anche utile nel caso di ritenzione dei liquidi e anche questo mi riporta la stessa cosa la ritenzione dei liquidi non corrisponde forse all'accumulo emotivo e mentale del quale spesso soffriamo quindi per tutti questi motivi penso che l'arancio possa accompagnare degnamente questo bellissimo fiore australiano che è appunto blue bell ecco uno splendido abbinamento e abbiamo visto come la natura ci offre in forme diverse ma sempre sinergiche il suo aiuto per qualsiasi emozione per qualsiasi stato d'animo mi raccomando non mancate di utilizzare questi due fiori e di approfondire e simona ci racconterà come potete approfondire la conoscenza di questi strumenti certo e questa è una cosa che ci piace sempre molto far sapere questi argomenti quindi fiori di bac ma non solo quindi essenze floreali e anche oli essenziali sono alcuni degli argomenti che vengono trattati in forma estesa in un programma in un percorso di crescita personale a cui abbiamo dato il nome di seme aureo e che è un percorso di nove mesi di profonda trasformazione quello che compone questo percorso sono altre diciamo perle come fossero appunto i fiori di bacca e gli oli essenziali e tutte insieme compongono ti portano a fare esperienza di te a tutti i livelli e quindi a conoscerti meglio e a migliorare la qualità della tua vita se sei interessato e interessata a saperne di più puoi visitare il nostro sito internet www.citaurea.it nella parte dove appunto vedi seme aureo però sappi che eventualmente c'è anche quella corsi quindi troverai seme aureo e corsi nel dubbio vai a vederli tutti e due e che scoprirai qualcosa di interessante oppure puoi scriverci un email info chiocciolacitaurea.it e saremo ben lieti di darti tutte le informazioni di cui avrai bisogno anche per oggi abbiamo terminato a prestissimo quindi con una nuova puntata di sinergia naturali ma ricordati che andando sul nostro canale anzi iscriviti al nostro canale youtube attivando anche la campanella di modo che tu possa essere avvisato avvisata ogni volta che esce un nuovo video lì troverai molte altre cose molte altre playlist nelle quali sono contenute comunque informazioni esposte in forma diversa che sono utili per la tua evoluzione per la tua crescita ti salutiamo alla prossima occuparci di noi stessi è sempre una cosa fondamentale importante noi ti offriamo un modo di farlo anche in maniera piacevole rapida e pratica grazie per la tua fiducia grazie per il tuo ascolto alla prossima ciao ciao